benvenuti a tavola è un programma presentato da panificio andy accesio maggiore buon lunedì benvenuti a tavola ben ritrovata joy dammi due baci allora un sacco di tempo che non ti vediamo dimmi che hai combinato la zen a la zen la zen è il mio cuore la zen è bellissimo mi piace tanto si la cucina è diventata la mia vita e mi diverto proprio tanto benissimo avremo modo di scoprirlo questa settimana perché appunto riprende benvenuti a tavola siamo nello showroom di jorick e quest'anno l'edizione 2016 2017 avrà protagonista il forno perché abbiamo voluto esaudire le richieste delle telespettatrici e telespettatori che amano cucinare con noi e quindi faremo tutte le recette dolci e salate in forno esattamente così allora oggi iniziamo con cosa oggi facciamo una cosa un po strana se facciamo le melanzane tornate non era il vitello una volta una volta adesso sai che le mode sono cambiate noi facciamo le melanzane tornate allora ok dimmi gli ingredienti che poi tu non ci crederai ma le melanzane poi sale pepe e per le melanzane basta così e poi dobbiamo fare la maionese tornata perché come ne è quindi l'uovo l'olio il limone e il tonno ok ma semplicissimo ma per ingredienti incroci allora iniziamo subito dai che si fa la melanzana l'abbiamo lavata e noi la peliamo ok ecco tagliamo la melanzana 7 8 mm un centimetro mettiamo le nostre melanzane non ci mettiamo niente le mettiamo in forno mezz'ora 180 gradi ricordiamo intanto che il ristorantino di la zen è aperto adesso dal giovedì alla domenica si dal giovedì alla domenica pranzo e cena sei fuori giovedì sera venerdì sera sabato sera domenica pranzo facciamo il pane lo facciamo a mano la lievitazione naturale la cottura in un forno con i piani in pietra ne facciamo 40 tipi diversi e lo potete trovare dai piccoli rivenditori ai grandi supermercati panificio andy artigiani del pane accesio maggiore anche con focacce crostate e tanti dolci ancora 0 4 39 43 0 23 ora con i ciuffi in tre gusti e facciamo la maionese l'uovo ti saresti mai immaginata che serve l'uovo poi un po di sale si dovrina ti ricordi si perfetto come non ci fosse un domenica come piovesse ecco bene due cucine di limone e adesso a me la parte difficile quella di versarti l'olio ecco qua a filo quando vuoi ma guarda che bella maionese ovviamente se noi andiamo avanti ad aggiungere olio lei diventa sempre più dura ok lei diventa sempre più dura noi adesso ci mettiamo sì ci mettiamo dentro il tonno e già in questo periodo probabilmente date le temperature è buono servire le calde però potrebbe essere anche un antipasto freddo sì io le serve fredde ma tu le servi fredde ok le melanzane sono pronte adesso però ci aggiungiamo il sale ok un po di pepe no ma si dai che no ci fa tanto bene poi mettiamo un coppapasta come quelli veri come quelli veri mettiamo un coppapasta e cominciamo a fare la torretta mettiamo due melanzane ok un po della nostra salsa tonnata e andiamo avanti così via il coppapasta via coppapasta wow due cucuncini ok ecco bene allora gioia a te il privilegio anche se questo entra in casa ancora bene a te il privilegio di salutare i nostri telespettatori per la prima puntata e dire loro benvenuti a tavola non male che te lo sei ricordato perché comunque so forte a domani a